... ... ... ... ... La natale non esiste analizio dove ci sentiamo tutti più buoni, allora se uno vuole essere più buono, lo può essere in qualsiasi momento dell'anno. Attenzione, non sono davanti. Questa poi è la reazione che ha la gente quando poi gli passano davanti anche le cose. Si alterano le cucole, le bocche. Ma no, perché tutti sono passati davanti? Mi sono passati davanti, vedi come si alterano. Come succede in realtà? Come in realtà? Ma si stavano davanti, ma poi sembrano che tutti vogliono quella roba lì che vuole via anche te, allora tutti accorrono a comprare quella roba lì che vuole via anche te. Comunque io tra Natale e la vigilia di Natale tendenzialmente preferisco la vigilia di Natale. Perché era di chi? Non lo so, mi prende meglio. Ma un po' per gli aspetti di vedere i regali, quindi sono incinta, ma qui c'è quella cosa fighissima. La se prende del regalo, se mi prende bene. Se penso a Natale, penso al fotogramma del primo regalo che mi ricordo. Era il Nintendo 8-bit nel proprio figo, c'avevo il gioco che dovevo sparare alle anatre. Anatre? C'era tipo questo suono qua. Anatre? Cazzo, d'arma. E' che la via tipo insomma del genere tu dovevi sparargli, oppure il piattelo. Possiamo parlare con un'altra se non sapete vedere. Non esiste.